Sono Fabio, ho 35 anni e vivo a Rapallo e coltivo a Rapallo nella frazione di San Massimo. Il contesto è quello più ligure possibile, ossia terrazzamenti stretti in cui passa malapena una moto zappa, una moto cariola. Quindi coltivo in una densità tale che mi permette di fare un'agricoltura ricca di biodiversità. Sono qui perché nel mio piccolo, parliamo di piccola scala, riesco a fornire a una piccola comunità di persone delle cassette di verdura. E allo stesso tempo coltivare anche per un ristorante della mia zona, quindi ho due canali di vendita differenti che però sono figli di una produzione totalmente sostenibile, dove cerco di chiudere il cerchio il più possibile dalle sementi alla produzione di concime avendo animali interni e soprattutto mantenendo vivo una fetta di paesaggio che, ripeto, come gran parte della Liguria è totalmente abbandonata. Quindi la consapevolezza del contesto storico rurale su cui coltivo, unita alla sostenibilità, fa sì che la mia agricoltura, a quanto pare, possa essere in un certo modo studiata o comunque osservata. Anche per questo che ho degli agganci accademici di studenti che vengono un po' più a visitarmi e oggi sono qui perché forse potrebbe essere un piccolo esempio, spero replicabile, di un'agricoltura che possa fare la differenza in qualche modo.